Il quarto incontro di solidarietà con la rivoluzione bolivariana della rete Caracas chiama. Quest'anno ad aprile dal 15 al 17 si svolge a Lecce in uno spazio occupato il Terra Rossa e con la partecipazione di moltissime associazioni collettivi che lavorano sul territorio e ha per tema il potere popolare che è la nervatura centrale di quello che sta accadendo in Venezuela da quando il processo bolivariano, il socialismo bolivariano con Hugo Chavez è andato al governo nel 1998 che continua ancora oggi contro 20 MRE. Basta vedere il livello di demonizzazione che esiste in Europa rispetto a questo paese, è lo stesso livello di demonizzazione che esiste nei confronti di Cuba, che è esistito nei confronti del socialismo in generale perché questa parola significa che fa tanta paura ai borghesi, quei borghesi che vediamo esportano i loro capitali dove vogliono e non lasciano passare le persone, fa tanta paura ai borghesi perché è un esempio. È un esempio che invece le classi popolari in America Latina hanno preso in mano e che potrebbe essere seguito anche da noi, un esempio di giustizia sociale, un esempio di condivisione anziché un esempio di lotta per la vita e non per la morte come invece vediamo dappertutto con le esportazioni di bombe eccetera e da chiunque in qualunque movimento si stia affacciando sulla scena politica, è stato così per Tsipras e adesso per Podemos ed è così in America Latina, ci sono le elezioni domenica in Peru, a tutti i candidati delle alleanze di sinistra viene chiesto di demonizzare Venezuela, viene chiesto di mandare in archivio definitivamente invece questo grande messaggio di solidarietà e di ripresa di protagonismo, anche se la parola non è bella, ma nel senso della condivisione appunto del potere popolare, la ripresa di voce da parte di quei settori tradizionalmente esclusi dalla scena politica, esclusi anche dalla vita e che sempre più aumentano di numero anche da noi. Possiamo definirli addirittura proprio degli incontri di controinformazione perché poi di fondo qui arriva poco e quello che arriva è distorto su questo paese. Sì, sono incontri, hai ragione, di controinformazione intanto per fornire una lettura concreta dei dati, ma sono anche incontri di pratiche, incontri di lotta, incontri di solidarietà internazionale, quello che storicamente è stato l'internazionalismo proletario e che si può chiamare con nomi diversi, ma di fatto torna prepontentemente come esigenza perché quel che accade nei paesi come l'America Latina, soprattutto il Venezuela, ci riguarda, ma ci riguarda qualunque tema che viene dal sud del mondo, da una parte per la responsabilità che abbiamo nei sistemi come le macchiglia d'oras, le fabbriche ad alto sfruttamento di lavoro vivo che esistono nel sud del mondo e ci riguarda per le conseguenze delle guerre che i paesi imperialisti provocano. Bene, chi volesse partecipare, perché da ogni incontro nazionale poi viene fuori la proposta anche per il prossimo incontro, può andare, la cosa più semplice, sul sito di albainformazione.com, c'è una scheda per iscriversi con tutti i prezzi super poco cari, dei bed and breakfast, come dormire, il programma della tre giorni e gli ospiti internazionali e le tematiche. Grazie per la visione!